Terzo colpo, la banda del buco ruba ancora l'Ipersigma. Il bottino è di 60.000 euro. Teramo Ambiente, tutti al capezzale dei lavoratori della Team in esubero. Servono tre società per non licenziarli. Ladri Padroni, professionista rapinato in casa e a piano d'accio, commessa derubata e malmenata. Campli, un'applicazione per telefonine e tablet per scoprire servizi e turismo. Virtù, il piatto Teramano anticipa i tempi, assaggio in piazza e gemellaggio con fritto misto. E per lo sport Teramo, Speranza e Donnarumma non sono al meglio ma a Prato ci saranno. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Teleponti. Apriamo questa edizione del nostro Tg con la cronaca. I ladri tornano a fare danni nel supermercato Ipersigma di Castelnuovo-Vomano. Per la terza volta in pochi mesi di apertura il punto 20 è stato visitato di notte da una banda altamente specializzata. Due enormi fori nella struttura e nella casaforte e nell'impianto di allarme ha girato per rubare. Hanno agito indisturbati per almeno due ore per portare via un bottino di 60 mila euro. Il responsabile della struttura dice siamo stanchi di essere in balia dei ladri. Il servizio. Sono entrati da qui, da questo foro che hanno predicato nel muro questa notte, i ladri che hanno rubato all'Ipersigma di Castelnuovo-Vomano. Intanto è il terzo furto che subite dall'inizio dell'anno? Sì, questo è il terzo furto che subiamo dall'inizio dell'anno. Nonostante abbiamo sempre adeguato la struttura con normative antifurto e cassaforte di categoria A, per l'ennesima volta oggi ci vediamo derubare di soldi e danni alla struttura. Per un totale di quanto più o meno? Un ammontare complessivo di totale dei furti 150 mila euro, diciamo, tra danni alla struttura e danno finanziario che abbiamo ricevuto. Abbiamo visto come hanno ridotto addirittura la cassaforte per prendere soldi e tutto quello che c'era all'interno. Sì, quella è una cassaforte di categoria A, quindi diciamo che è una delle cassaforti che dà una maggior sicurezza per quanto riguarda, diciamo, il... È difficile da aprire. È difficile da aprire, esatto. I ladri questa notte hanno praticato il foro qui, sono entrati dai bagni anche per aggirare il problema dell'allarme. Probabilmente conoscevano la struttura. A questo punto dobbiamo pensare, sì, che ci siano delle persone che siano a conoscenza della planimetria dell'immobile, perché sono entrati da un punto dove era scoperto dall'impianto d'allarme. Chi si è accorto del furto stamattina? Allora, questa mattina il signor De Angelis, che è il vice direttore della struttura dell'Ipersigma di Castelno Alvonauno, è entrato in ufficio e si è accorto che avevamo subito, diciamo... L'ennesimo furto. L'ennesimo furto. E ha chiamato il titolare, il signor Di Sabatino, dopo successivamente a me, che siamo arrivati sul posto e abbiamo constatato i danni. I ladri hanno operato indisturbati, qui c'è la statale che passa proprio a pochi metri dal supermercato. Beh, sì, io non sono un tecnico per quanto concerne queste tipologie, diciamo, di eventi, però secondo me almeno un paio d'ore con rumori abbastanza pesanti l'hanno impiegate. Voi chiedete ovviamente maggiori controlli, un po' più sicurezza, perché tre furti in quattro mesi la situazione comincia ad essere un pochettino pesante. Eh, sì, a questo punto ci vediamo poco tutelati, nonostante noi abbiamo anche un istituto di vigilanza che fa dei passaggi notturni, scaglionati, non sappiamo come, perché purtroppo non sappiamo gli orari, però ci vediamo ancora ad oggi, subiremo l'ennesimo furto, non sappiamo più come, diciamo, fare per evitare questi furti. Ancora la cronaca, entrano nella villetta di campagna, Mosciano e certi di poter agire indisturbati si mettono all'opera per cercare la cassaforte, ma trovano il proprietario steso sul divano a guardare la televisione. È stato il drammatico faccia a faccia con i ladri, vissuto ieri notte da un professionista moscianese. I due ladri, a volto scoperto, avevano con loro tutti gli arnesi del mestiere e una volta scoperti hanno minacciato il professionista, facendosi consegnare pochi spiccioli e qualche oggetto di valore, non trovando però una cassaforte da svaligiare. Si sono poi dati alla fuga il proprietario dell'abitazione, che non ha per fortuna subito conseguenze fisiche alla vista dei ladri, ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e adesso indagano per individuare gli autori del colpo notturno. Sono tornati i vandali nella scuola elementare di Nepezzano di Teramo, già purtroppo bersaglio di balordi che si divertono di notte a fare danni alla struttura. Se ne sono accorte le maestre questa mattina all'apertura della scuola, obiettivo dei vandali, i registri di classe, i disegni degli alunni e i cartelloni, ma dappertutto hanno lasciato mozziconi di sigaretta e scritte offensive sulle lavagne delle aule. I carabinieri che si stanno occupando delle indagini hanno trovato una finestra rotta sul retro dell'istituto dalla quale molto probabilmente gli ignoti sono entrati. E' probabile che gli autori dell'atto di vandalismo siano dei minorenni del posto, tuttavia la richiesta che arriva dal personale e dai genitori è quella di una maggiore sicurezza da garantire alla struttura scolastica. E parliamo ora degli esuberi della TEAM, non vogliono assolutamente perdere il posto di lavoro i dipendenti che adesso, in occasione dell'incontro tra sindacati e vertici della TEAM, stanno manifestando proprio sotto la sede della Teramo Ambiente, in Piazza Martire della Libertà. E noi ci colleghiamo in diretta con la nostra Dorotea Mazzetta. Buonasera Rino, buonasera a tutti. Ci troviamo in Via Delfico, proprio davanti alla sede della Teramo Ambiente, dove in questo momento è in corso una riunione tra i vertici della municipalizzata e i sindacati. E dove, come hai appena detto, c'è anche una sorta di mobilitazione, un presidio di una delegazione dei 46 lavoratori in essubero. Quando si apre una procedura di mobilità, l'azienda, nel caso specifico la TEAM, ha 75 giorni di tempo per cercare di trovare una soluzione alternativa alla mobilità. In questi 75 giorni di tempo ci saranno una serie di incontri con i sindacati, proprio per cercare di trovare una soluzione alternativa. Quello che è in corso in questo momento è il primo di questi incontri. Ma come dicevamo, io sono in compagnia di alcune lavoratrici, delle lavoratrici che sono in essubero, e che sono anche loro in attesa di avere delle risposte, magari delle prime risposte, già da questo incontro. Eccola qua una, le vediamo, insomma, come diciamo, è solo una delegazione. Qua ci sono persone che lavorano alla TEAM da poco tempo, ma ci sono anche persone che lavorano alla TEAM da oltre 20 anni. Dunque il problema è veramente serio. Loro hanno protestato davanti alla prefettura, più volte sono state in consiglio comunale e oggi sono sotto la sede della TEAM. Sperate intanto in qualcosa di positivo da questo primo incontro tra vertici TEAM e sindacati? Sono un po' deluvante. La speranza si dice l'ultima a morire, però speriamo in qualcosa di positivo. Finora cosa vi hanno detto? Nulla. Non ci hanno dato nessuna speranza. Voi ieri avete inviato una nota anche agli organi di informazione, nella lettera cosa chiedete? Abbiamo fatto una dichiarazione di disponibilità a svolgere lavori e mansioni diverse presso la società, però non abbiamo avuto nessuna risposta. Voi in questo momento state ancora lavorando ovviamente, fino a quando dovrete lavorare? Sì, fino al 30, però vorrei sapere se il 2 maggio devo venire a lavorare oppure no. Questa risposta non l'avete ancora avuta? No. I sindacati cosa vi dicono? Per la verità sanno poco, anche loro li abbiamo sentiti poco fa prima dell'incontro. Sì, esatto. Stasera speriamo che si risolva qualcosa. Quello di questa sera è il primo di una serie di incontri perché come sapete l'azienda ha 75 giorni di tempo per cercare una soluzione alternativa alla mobilità. A voi la mobilità ovviamente non va bene? No, assolutamente. Noi non vogliamo uscire fuori dalla società, non vogliamo perdere il posto di lavoro, anche perché siamo famiglie che lavoriamo perché abbiamo bisogno dello stipendio e poi per un misero stipendio non ci stiamo a perdere il posto di lavoro. Come dicevamo c'è gente che lavora all'Ateam da oltre 20 anni con un misero stipendio perché c'erano delle persone che ci hanno detto che guadagnano 600 euro al mese e rischiano di rimanere senza i 600 euro al mese. Magari c'è già la famiglia, gente che magari vive da sola e che non ha alternativa a questo stipendio, per cui diventerebbe un vero e proprio dramma se la situazione si dovesse confermare quella che è al momento. Sì, c'è gente che paga anche un mutuo, quindi si ritroverebbe anche in mezzo a una strada perché è un unico stipendio che rientra dentro la propria famiglia, quindi è un problema abbastanza serio. Cosa, allora questa mattina lo ricordiamo, tra breve proporremo anche un servizio in consiglio comunale, dei consiglieri hanno proposto di creare tre società in house a capitale totalmente pubblico per cercare di riassorbire questi lavoratori, tre società che dovrebbero occuparsi dei servizi e che non sono più di competenza dell'Ateam. Ma a voi come mi sembra questa idea? È tutto da vedere. Sembra e sembra una buona idea, però siamo all'inizio, però è tutto da vedere, siamo all'inizio, vediamo l'evolgersi. La vostra speranza qual è? Ce l'avete una speranza a questo punto? Perché parlando prima con qualcuno di voi abbiamo visto persone davvero scoraggiate da questa situazione, anche perché molti non si aspettavano. Il sindaco però ci rassicura. Cosa vi dice? Di stare tranquilli. E voi vi fidate del sindaco? In un certo senso, però vediamo l'evolgersi. Avete avuto qualche contatto con i vertici della terra? Hai tentato di parlare con il presidente, con l'amministratore delegato? Si, ho parlato, però nessuno... Non si pronunciano per il momento, ancora non si pronunciano. Se nella peggiore delle ipotesi dovesse succedere quello che ovviamente non solo voi, ma tutti ci auguriamo, che non succeda, cosa pensate di fare? Non lo so, in questo momento siamo veramente scoraggiate. Aspettiamo la loro decisione e poi vediamo. Allora, come hai sentito Rino, ovviamente sanno veramente molto poco di quello che può essere il loro destino. In questo momento, lo ribadiamo, è in corso un incontro importante, un vertice importante tra la Team e i sindacati. Sono stati ricevuti sindacalisti di tutte le sigle sindacali una mezz'ora fa. Probabilmente l'incontro andrà per le lunghe, ma da questo incontro nessuno si aspetta risposte definitive, perché, come dicevamo, è il primo probabilmente in una lunga serie, perché l'azienda ha 75 giorni di tempo per decidere e valutare eventuali soluzioni alternative alla mobilità, che per il momento sembra l'unica soluzione per questi 46 lavoratori in esubero della Team. A voi studio. Grazie, grazie a Dorotea Mazzetta, le sue ospite, le dipendenti della Team. Ovviamente domani, sicuramente nel corso del nostro telegiornale, vi daremo conto dell'esito di questa riunione presso la sede della Team. Ma continuiamo a parlare di questo, faceva riferimento proprio prima nell'intervista a Dorotea Mazzetta, salvare i posti di lavoro della Team attraverso la costituzione di tre società in house gestite direttamente dal Comune di Teramo. Una per l'igiene urbana, una per i servizi cimiteriali e un'altra per gli altri servizi strumentali, quali impianti termici, pulizia immobili, verde pubblico e musei. E la proposta presentata dai consiglieri d'opposizione al Comune di Teramo, Paola Cardelli e Gianluca Pomante, che propongono di finanziare l'operazione con la vendita delle quote della parte pubblica, il servizio. Per salvare i posti di lavoro e per ridurre i costi, i consiglieri comunali di minoranza, Paola Cardelli e Gianluca Pomante, hanno proposto in consiglio comunale la creazione di tre società in house a totale capitale pubblico. Queste società di quali servizi si dovrebbero occupare? Di tutti i servizi attualmente, fino ad oggi, svolti dalla Team. Dunque, quindi, fu costituita una società per l'igiene ambientale e servizi del sportello TIA. Poi una società per i servizi cimiteriali e una società per i servizi strumentali. Attualmente, i lavoratori della 46, i lavoratori che partengono alle classi sociali più deboli, probabilmente perderanno il posto di lavoro. I famosi esuberi della Team. I famosi esuberi della Team. In questo modo noi potremmo salvaguardare il loro posto di lavoro. Poi è gente che difficilmente potrebbe essere anche ricollocata. In più, separare il destino del Comune di Teramo da quello della Team. Per fare questa operazione voi proponete di dismettere le quote della Team. Sì, la quale potrà continuare, con le restanti commesse, potrà continuare a svolgere la sua attività. State preparando un ricorso al Tar per un conflitto di interesse del sindaco nella Team. Se venisse accettata la vostra proposta, verrebbe superato anche il ricorso al Tar? Sì, ovviamente. Questa proposta è una proposta costruttiva che mira anche a togliere dall'imbarazzo il Comune per le varie illegittimità che presenta la delibera adottata il 31 marzo. Non solo il conflitto di interessi del sindaco per la posizione della consorte, ma anche una serie di criteri dettati dalla legge sul riordino delle partecipate che non sono stati rispettati. L'idea è quella di superare proprio il problema a pie pari. Costituire queste tre società, strutturate in maniera corretta, con una governance che abbia esperienza precedente nel settore, soprattutto abbia un'esperienza positiva, e che possano riassorbire il personale attualmente in esubero. In Consiglio Comunale a Terremo, intanto, sul problema degli esuberi, ha prodato anche un ordine del giorno a firma del PD, con il quale il gruppo chiede un impegno al sindaco di sospendere la procedura di mobilità ritenuta all'anticamera del licenziamento collettivo di 46 lavoratori a favore di altri ammortizzatori. Sentiamo. Avvocato Manola Di Pasquale, avete presentato oggi come PD un ordine del giorno teso a impegnare il sindaco per la salvaguardia dei posti di lavoro della TEM. Sì, come Terremo Cambia e Partito Democratico abbiamo presentato un ordine del giorno nel quale chiediamo che venga immediatamente sospesa la procedura di licenziamento collettivo dei 47 dipendenti TEM e quindi la mobilità, e che venga invece avviato lo studio e l'applicazione di altri ammortizzatori sociali che tentano a conservare il posto di lavoro come i contratti di solidarietà e come la cassa integrazione straordinaria. Questo è possibile, il Comune è un socio di maggioranza e può tranquillamente indurre l'amministratore delegato a cambiare rotta. Hanno fatto discutere in questi giorni i contenuti del regolamento sulle società sportive sottoposto in consiglio dall'assessore Francesca Lucantoni. Sull'argomento ha preso posizione il consigliere comunale Guido Campana che si è fatto promotore di numerosi emendamenti. Sentiamo. Alcune modifiche al regolamento sugli impianti sportivi sono state accolte in commissione e sono dunque passate. Il consigliere comunale Guido Campana però ne propone altre. Quali? Sì, a parte che c'è il regolamento importantissimo perché possiamo dare atto appunto a fare i bandi che sono importanti per la nostra città. Proposce sono di costituire una consulta comunale dello sport con tanti personaggi, con i coni, con il pubblico degli studi, con i capigruppi, con le federazioni sportive, con gli enti. Perché questo? Per capire quali sono le vere esigenti sullo sport a Teramo una volta ogni tre mesi, sei mesi, poi si deciderà per dire appunto che lo sport di tutti e della città di Teramo appunto possa creare un futuro per i giovani e poi di creare un codice etico sportivo per tutti gli impianti sia per chi viene a giocare da fuori, Teramo, e sia per chi si allena e gioca a Teramo per dire che l'impianto di tutti va rispettato e più l'educazione in mezzo a campo. E' approdato oggi al voto del Consiglio Comunale di Teramo il nuovo regolamento di polizia mortuaria che introduce novità significative per la concessione dei loculi. Il servizio. Assessore Mirella Marchese, in Consiglio Comunale approda al voto il nuovo regolamento di polizia mortuaria che prevede significative novità in termini di concessioni dei loculi. Sì, diciamo che questo regolamento a differenza del vecchio prevede delle innovazioni che consistono nel prolungamento della durata della concessione dei loculi dando l'opportunità ai familiari che ne facciano richiesta di prolungare questa concessione di ulteriori dieci anni rispetto al vecchio. Quindi potrebbero diventare 40 più 10 più 10. Ma ci sono anche novità per quanto riguarda la deroga alle liste d'attesa? Certo, abbiamo previsto una norma transitoria perché purtroppo per una carenza cronica dei loculi soprattutto nei cimiteri frazionali si sono verificati negli anni precedenti casi in cui un familiare piuttosto che un amico abbia ceduto per una durata temporanea quindi per una durata breve il proprio loculo per dare l'opportunità all'amico piuttosto che al familiare di poter essere inserito nell'oculo. E qui abbiamo previsto una norma transitoria e un aderoga alla graduatoria in modo tale da dare l'opportunità ai familiari di mettersi in regola entro sei mesi dall'entrata di questo regolamento andando a scavalcare la graduatoria. E stare anche quindi vicino ai propri cari? E quindi stare vicino ai propri cari non solo abbiamo preveduto anche la possibilità per coloro che avevano ottenuto in concessione un loculo con la vecchia disciplina quindi 30 anni purché ancora in esse di poter comunque vedersi applicata a questi nuovi articoli dando loro l'opportunità di arrivare a 40 più 10 più 10 sempre pagando ovviamente a differenza della tariffa che in quel momento comunque è in vigore. Monta la polemica all'interno del Partito Democratico Terramano nel nome di Magdi Allam il popolare giornalista già eurodeputato sarà a Teramo per una serie di incontri uno di questi si terrà sabato mattina presso la sede del PD a Teramo e Sciamanna, segretario del circolo del PD di Teramo Est insorge criticando la scelta e anche l'avvocato Navarra organizzatore dell'iniziativa sabato mattina scrive Sciamanna nella sede del PD Terramano si terrà un curioso appuntamento nell'ambito di anno zero ipotesi di scuola politica gli iscritti potranno avere la sfortunata occasione dice Sciamanna di dover assistere ad una lezione su radici cristiane e anima europea tenuta a niente popo di meno che da un membro dell'ufficio di presidenza di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Magdi Cristiano Allam in collaborazione con l'ideatore della serie di incontri l'avvocato Navarra le posizioni intolleranti di Allam prosegue Sciamanna su immigrazione, Europa, multiculturalismo, identitarismo sono note a tutti e non hanno bisogno di essere ricordate ciò che invece vorremmo che venisse spiegato agli iscritti del PD Terramano è il perché dell'organizzazione di un seminario con un ospite di tale calibro sono cominciati i lavori di messa in sicurezza di via delle reclusi a Teramo dopo l'apertura di una voragine nella strada provocata dal cedimento sotterraneo della fognatura del Ruzzo il buco notato dapprima come un piccolo foro nell'asfalto è diventato all'improvviso un vuoto all'interno del quale è stata risucchiata una vasta porzione della via sotto lo sguardo preoccupato dei residenti che hanno visto aprirsi il buco in un attimo due giorni fa nel vuoto sottostante come possiamo vedere dalle immagini girate questa mattina si nota la presenza di un'antica cisterna di raccolta delle acque nere della vetusta riete fognaria cittadina la via al confine e alle spalle dell'enorme complesso dell'ex ospedale psichiatrico è stata subito transennata e vietata la circolazione pedonale dei mezzi in attesa dell'intervento degli operai del Ruzzo che hanno cominciato a lavorare a ripristino del sistema fognario e di sistemazione del tratto interessato al crollo e adesso ci spostiamo a Pescara alla discoteca Quattro Vele un evento di educazione e sensibilizzazione con un ospite d'eccezione il re degli striscioni negli stadi Cristiano Militello inviato di striscia la notizia ha parlato di sicurezza sulle strade e guida responsabile ha detto che bisogna introdurre il reato di omicidio stradale sentiamo Cristiano Militello arriva a Pescara questa volta in una veste diversa non per farci ridere negli stadi ma come testimonial di un'importante campagna pensa alla vita guida con la testa un progetto di educazione stradale promosso dall'amministrazione comunale ACI Polizia Municipale di Pescara e Regione Abruzzo un tema quello della sicurezza sulle strade come riferisce lo stesso Militello a lui molto caro mi sembra giusto che persone che hanno comunque visibilità popolarità affianchino delle campagne io sono molto vicino a questo tema per le vicende personali e continuerò a farlo è giusta la prevenzione è giusta l'introduzione del reato di omicidio stradale perché spesso si pensa ai ventenni come anche autori di incidenti o di stragi ma spesso sono anche le vittime anche di adulti che si mettono alla guida in condizioni penose e quindi bisogna guardare questo problema a 360 gradi manca la giusta prevenzione e manca sensibilizzazione secondo Cristiano Militello nessuno chiede ai giovani di non bere dice ma i modi per evitare le tragedie del sabato sera e non solo ci sono voglio dire nessuno chiede di rinunciare al vino alla birra o al cocktail basta mettersi in condizione di non nuocere quindi c'è l'amico che per quel sabato non beve e guida ci sono i taxi c'è il babbo e la mamma se si va a una festa in casa si fa un po' di rumba si può rimanere a dormire lì e quindi c'è il modo cercare di farlo capire e quindi prevenire è utile per quanto riguarda le pene è chiaro che in questo caso più certe e più severe in alcuni casi sono ma meglio è per tutti un solo convegno ma anche occasione per raccogliere firme per le proposte della CISL a favore del lavoro della famiglia dei giovani e dei pensionati il segretario generale nazionale della CISL Furlana ha concluso i lavori del convegno che si è tenuto a Pescara vediamo per un fisco più equo e più giusto ma soprattutto una politica di governo che sia davvero più vicina alle famiglie ai giovani ai lavoratori di questo si è parlato nel convegno organizzato dalla CISL presso l'aurum di Pescara ha concluso i lavori Anna Maria Furlana segretario generale della CISL bisogna far ripartire questo paese il DEF punta troppo poco sulla crescita ci vuole più coraggio attraverso due meccanismi il primo il governo italiano deve davvero davvero continuare a mettere in discussione in Europa con molta più determinazione il fiscal compact bisogna cambiare lo statuto economico dell'Europa abbiamo bisogno in Europa e nel nostro paese di puntare di più sulla crescita sullo sviluppo e sul lavoro è ovvio che il fiscal compact è stato rottamato dalla recessione bisogna metterci le mani ogni euro che ogni paese investe in crescita e in sviluppo non è allargamento della spesa è creare il futuro per l'Europa e per i singoli paesi la seconda questione bisogna andare avanti andare avanti nella riforma del sistema fiscale gli 80 euro di Renzi così lui li ha definiti sono stati immediatamente assorbiti dalle tasse locali questo non è corretto non è giusto non si sostengono così le famiglie la CIS promuove una legge popolare sta raccogliendo le firme per dire una cosa molto semplice ogni reddito sotto i 40.000 euro lordi deve avere 1000 euro di tasse in meno ogni anno questo per sostenere le famiglie per sostenere i redditi da lavoro ma anche per far ripartire le imprese se non ripartono i consumi le nostre imprese entrano ovviamente in difficoltà e occupiamoci proprio di imprese 1000 euro in servizio e un finanziamento fino a 30.000 euro garantiti a 70% dalla CNA sono le agevolazioni previste dal progetto Impresa Facile promosso dalla CNA di Teramo e rivolto a chi vuole aprire una nuova attività vediamo nasce Impresa Facile un nuovo progetto della CNA chi è rivolto? è rivolto a tutti coloro che hanno un'idea in testa e vogliono trasformarla come un progetto concreto quindi i neoimprenditori noi ci rivolgiamo a loro con una serie di servizi di supporto proprio nella fase di partenza sono tante le imprese che si iscrivono tante si cancellano la nostra provincia purtroppo quest'anno c'è un dato meno per quanto riguarda la differenza tra iscritti e cancellati ci siamo posti il problema di come sostenere i nuovi imprenditori e abbiamo creato questo pacchetto Impresa Facile CNA daremo assistenza con uno sportello unico un voucher di 1000 euro da spendere in servizi formazione consulenza attività diciamo di informazione generale più un finanziamento di 30.000 euro garantito al 70% dal nostro conflitto di impresa Abruzzo chi può aderire e quali sono le caratteristiche per aderire ad Impresa Facile? Tutti giovani donne anziani disoccupati ragazzi che hanno finito la scuola che si vogliono misurare che hanno idea in mente un bel progetto Termini? Termini partiamo da domani non ci sono termini perché il progetto durerà tutto l'anno 2015 quindi non ci sono né bandi né scadenze tutti coloro i quali vogliono fare Impresa si possono rivolgere a noi faremo 4-5 iniziative sul territorio insieme ai nostri partner istituzionali per diffondere diciamo questo progetto e vedremo come far nascere e sviluppare tante imprese creandogli meno ostacoli meno burocrazia e dandogli più credito e più consulenza il comune di Campli apre all'interazione con cittadini e turisti attraverso un'app 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 il comune lancia la nuova applicazione istituzionale si come amministrazione comunale vogliamo lanciare questa iniziativa dell'app tecnologica dopo aver già fatto wifi a Campli in piazza e a Santo Nofrio per cercare di avvicinare la tecnologia al modo di amministrare un'app quindi come amministrazione comunale e con quest'app ci avviciniamo notevolmente ai cittadini in maniera tecnologica e viceversa già c'è? già c'è è funzionante è possibile scaricarla sia su cellulari Apple che Android basta scrivere app comune Campli ed è di facile utilizzo attraverso l'app viaggiano tutte le informazioni sul comune di Campli viaggeranno tutte le informazioni i cittadini potranno segnalare ogni cosa e viceversa quindi anche noi come amministrazione per comunicazione e quant'altro istituzionale potremo utilizzare l'app per avvicinarci con un semplice click al cittadino è utile anche per i turisti che verranno a Campli perché questa è un'app che abbiamo voluto fortemente anche in inglese quindi qualsiasi turista che verrà a Campli avrà modo di poter leggere tutte le informazioni sui vari monumenti sia in italiano che in inglese Quello di Campli è uno dei primi comuni che si dota di un'app Sì è uno dei primi comuni della provincia di Teramo siamo molto contenti di questa iniziativa perché dopo lui e Fabi in piazza dopo il centro turistico multimediale volevamo questa iniziativa appunto per far sì che i cittadini possano partecipare alla vita amministrativa e soprattutto offrire un ulteriore servizio ai turisti quindi possono essere fatti dei sondaggi può essere visto il meteo quindi un'iniziativa molto importante che migliora appunto il servizio per il cittadino Dal 24 al 26 aprile prossimi la tradizione teramana della preparazione delle virtù secondo l'antico disciplinare sposa in un gemellaggio gastronomico il fritto misto Ascolano Vediamo Le virtù di Teramo città della cultura e della grande cucina 24, 25 e 26 aprile Piazza Martiri della Libertà ospita questa grande manifestazione dedicata soprattutto alla tradizione culinaria di Teramo Sì alla grande tradizione culinaria di Teramo le virtù sono tre giorni di cucina con cooking show con un piccolo concorso anche di cucina quindi alla fine dei tre giorni ci sarà una valutazione su chi ha fatto le virtù migliori dedicato naturalmente alle virtù sulle quali non mi dilungo perché tutti conosciamo quale straordinario piatto della tradizione teramana siano e quest'anno c'è una novità che Arta ha voluto all'associazione dei ristoratori teramani che promuove questo evento insieme al GAL ed è il gemellaggio con Ascoli Piceno con Fritto Misto oggi oggi questa iniziativa allarga debbo dire in maniera molto diligente anche per un ritorno turistico allarga appunto la ragionazione delle virtù e abbiamo accolto con dicevo con grande piacere questa proposta di veicolare in maniera reciproca i due eventi questa manifestazione ospita questo concorso dedicato alle virtù le casalinghe terramane potranno portare il loro piatto poi questi piatti verranno assaggiati e giudicati nella giornata del 26 aprile con questa cosa noi intendiamo riportare quell'agonismo che anticamente c'era tra le famiglie che hanno contribuito a rendere famoso il piatto a renderlo sempre più buono perché poi quando c'è competizione ogni anno ci si impegnava sempre a farlo meglio a mettere qualcosina di più fino a farlo diventare un'eccellenza terramana questo è il nostro obiettivo l'intera manifestazione è stata finanziata dal GAL sì diciamo queste sono manifestazioni noi ce l'abbiamo come obiettivo quello di valorizzare quelle che sono le ricchezze e le tipicità del nostro territorio le virtù in questo caso sono uno degli aspetti particolari come ce ne sono sul nostro territorio ce ne sono diversi altri ci siamo affidati a un gruppo di ristoratori terramani sotto la sigla ART perché da anni si impegnano a valorizzare questo piatto torna anche quest'anno non poteva essere altrimenti la consueta festa quella più importante per Giulianova la festa della Madonna dello Splendore il servizio siamo a Giulianova in occasione della presentazione dell'annuale la rivista Madonna dello Splendore con la quale si dà il via ad una delle feste più antiche d'Abruzzo la festa appunto della Madonna dello Splendore che cosa significa arrivare un altro anno qui a festeggiare una festa così importante per Giulianova diciamo che siamo diventati vecchi perché 34 edizioni fatte 34 opuscoli della Madonna dello Splendore diciamo che se sono entrati nemmeno 181 non faccio i conti però naturalmente lascio l'interpretazione a voi tutti per quanto riguarda la festa di quest'anno è inutile parlare abbiamo messo anima e core come si dice in gergo napoletano ci auguriamo che tutto vada bene anche se magari qualcuno c'ha sempre da ridire però noi abbiamo cercato di allestire una delle migliori feste momentane in commercio diciamo così da Giulianova nei nostri paesi di Mitrofi questa è una festa tra l'altro che raccoglie un po' non solo i fedeli ma avendo anche diversi momenti ludici diventa anche una festa popolare che raccoglie tutti i cittadini dei paesi vicini una festa molto importante del Terramano diciamo quest'anno di nuovo un altro anno un programma molto ricco come si articola? io vi ringrazio per questo questo aggettivo ricco si articola partiamo stasera con la presentazione della rivista Madonna dello Spendore continuiamo domani con la processione del simulacro della Madonna che viene a trovare i giuliesi dal convento dei padri Cappuccini per poi passare al 21 18 quando la Madonna del monastero Santo Volto rientra qui nel Duomo di San Flaviano e poi partiamo dal 21 che sono i giorni clou 21 e 22 qui abbiamo cercato di allestire di tutto cominciando dai Tequila Band per la sera del 21 e Amedeo Minchi le bande le migliori abbiamo la banda di Ailano per il 22 e quella di Franca Villa Fontana per il 21 che metterà festa naturalmente al nostro paese niente le illuminazioni le solite cose i fuochi d'artificio abbiamo un po' di problemi auguriamoci che tutto vada in porto con i fuochi piromusicali e la batteria del giorno ma soprattutto io mi appello al tempo che sia clemente un progetto dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara intrigante e stimolante che ripercorre la storia i cambiamenti sociali e di costume attraverso la donna e la rappresentazione della donna vediamo la donna tra realtà e rappresentazione nel corso della storia attraverso i versi attraverso i costumi e anche attraverso la musica Sì, infatti abbiamo dovuto iniziare il cinquantinario del nostro Ateneo con questo evento che nasce da una ricerca molto profonda ha prodotto un lavoro scientifico importante che va a rappresentare la donna nel tempo nei spazi e soprattutto nelle parole che raccontano la donna abbiamo usato la donna come filo conduttore di questa trasformazione sociale che ci permette di leggere con attenzione i vari mutamenti sociali che la donna ci ha consegnato nel tempo Serve agli studenti ma serve anche soprattutto una testimonianza di questo lavoro di questa ricerca Beh, ovviamente come avete notato è stata l'aula magna del rettorato è stata fortemente rappresentata i nostri studenti che hanno accolto questo tipo di interventi con molta attenzione perché i vari profili che noi offriamo come offerta formativa nell'Ateneo da Nunziano permette come dire di valutare a 360 gradi tutte le sfaccettature direi la donna è sempre quel punto di riflessione importante che forse per alcuni tempi passaggi storici la donna è stata scotomizzata nascosta o sottovalutata i passaggi importanti del lavoro scientifico sono stati dopo il 29 il 20 dopo la prima guerra mondiale e soprattutto dopo il 68 dove la donna ha riconquistato quell'elemento quel ruolo che fino a qualche tempo prima era stato un po' nascosto ed è arrivato il momento della rubrica di Giancarlo Falconi Carta Canta vediamo tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco sedia quando parla di sinistra ma cos'è la destra cos'è la sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra basta 127esima puntata di Carta Canta torniamo a parlare del CIRSU perché ci sono le novità il procuratore Giovagnoni ha nominato un pool di commercialisti di Pescara per studiare bene le carte di Soggesa Soggesa rimane comunque l'incubo che ha legge intorno al CIRSU il curatore di Soggesa Angelino Di Francesco il dottor Angelino Di Francesco ha chiesto 9 milioni di euro al CIRSU mentre inauguravano il CIRSU mentre i soci sindaci inauguravano il CIRSU si legge di condannare la società CIRSU S.p.a al pagamento in favore del fallimento Soggesa S.p.a della somma di 9 milioni errotti quantomeno della minor somma di 4 milioni in ogni caso di tutte quelle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia unitamente agli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo e cosa sta succedendo al CIRSU? C'è stata l'inaugurazione che cosa hanno inaugurato? Guardate queste fotografie le abbiamo raccolte nel corso di un anno di appostamenti di visite al CIRSU perché il CIRSU rappresenta un anello importantissimo per i rifiuti all'interno della provincia di Teramo e soprattutto è posto vicino al corso del fiume Tordino vi ricordo lo sversamento del percolato vi ricordo i problemi di sicurezza dopo i due incendi al CIRSU stesso vi ricordo tutte le proroghe che sono state date dalla regione Abruzzo al CIRSU vi ricordo gli impegni non mantenuti come l'assobbimento di tutti gli operai di Soggesa perché il nostro primo pensiero va alle famiglie degli operai di Soggesa che in questo momento non stanno lavorando vi ricordo oltretutto anche che in questo momento c'è un CTA che non rispetta quelle che sono le regole di parità di genere perché è composto da tre uomini e intanto nel frattempo si continuava l'inaugurazione del CIRSU con tutti i soci sindaci ci sono delle domande mentre scorrono le fotografie che vorrei fare anche ai soci del CIRSU e ai sindaci che hanno inaugurato questa nuova struttura che poi in realtà è la stessa ricordiamo che Soggesa abbiamo appena ricordato che ha richiesto la richiesta di liquidazione di oltre 9 milioni di Euro ci sono i 15 milioni di Euro da pagare il CIS doveva pagare per il debito che è riconosciuto il piano di strutturazione del debito riconosciuto dallo stesso tribunale quindi 15 milioni più 9 milioni sono 24 milioni ci sono anche i milioni di Euro necessari per la chiusura e la gestione post chiusura della vecchia discarica per legge questo quindi quando andiamo a finire 27-28 milioni più l'inizio della nuova attività raggiungeremo i 30 milioni ma non è questa la domanda secondo la nuova legge di stabilità e pretendiamo tutti che i comuni soci comunque i sindaci gli amministratori sicuramente avranno una risposta da dare secondo la nuova legge di stabilità i comuni soci non hanno l'obbligo di redigere il proprio bilancio consolidato con i bilanci delle proprie società in house domanda fondamentale sappiamo bene che il cirso si trova nella Repubblica indipendente di Grasciano ma non è detto che tutti quanti noi a Teramo dobbiamo metterci l'anello a naso carta canta eccoci alla pagina sportiva apriamo con il Teramo calcio ci si sono allenati oggi l'attaccante Donnarumma il difensore Speranza ma l'hanno fatto a parte non partecipando alla partitella insieme agli altri compagni di squadra che hanno affrontato la formazione Berretti i due giocatori hanno dunque svolto lavoro differenziato ma non dovrebbero mancare alla partita di domenica prossima a Prato e su questo impegno e sulle attese di questo finale di campionato abbiamo avvicinato il centrocampista Cenciarelli sentiamo il match decisivo spero che sia così ma noi dobbiamo ragionare che comunque ancora mancano quattro partite e dobbiamo vivere partita per partita la massima intensità con la massima concentrazione bisognerebbe però evitare quel calo di tensione che si è avuto nel secondo tempo contro la Bucchese ma diciamo che è stato un calo anche un po' fisiologico ci sta che dopo una partenza comunque importante abbiamo fatto un primo tempo ad alta intensità il secondo tempo un po' siamo calati soprattutto mentalmente ci può stare comunque l'importante era portare a casa i tre punti in questo momento però il Teramo sembra essere una macchina assolutamente perfetta ma io spero che questo Teramo possa continuare a far bene e poi è chiaro che fa piacere essere sulla bocca di tutti e appunto sperare di regalare un sogno ai nostri tifosi prossimo avversario quali sono le difficoltà di questa partita ma per noi comunque ogni partita è difficile sabato è venuta la Bucchese che comunque era una squadra già salva e ci ha messo anche un po' in difficoltà figuriamoci sabato contro una squadra che comunque si deve salvare avranno il coltello fra i denti davanti hanno Bocalon Fanucchi e Rubino sono dei buoni attaccanti poi dopo è chiaro che le partite vanno giocate e vediamo cosa ne viene fuori voi però giocherete con 12 uomini in campo perché ci sarà il pubblico di Teramo che vi seguirà in massa sono molto felice di questo il pubblico nell'ultimo periodo veramente ci ha dato una grossa mano e anche anche sabato si è fatto veramente sentire alla grande ci stanno veramente a cuore questi tifosi lo spumante è già messo in ghiaccio no no ancora ce l'abbiamo dentro il frigorifero speriamo di poter stappare questa bottiglia il più presto possibile comunque ancora non ci penso anzi sono concentratissimo insieme ai miei compagni a raggiungere un obiettivo importante per tutti noi bene siamo arrivati alla fine di questo nostro telegiornale vi ricordo che questa sera ci sono le due trasmissioni del giovedì su Teleponte alle 21 Inside dentro il personaggio curata e condotta dal nostro direttore Roberto Almonti l'ospite di questa sera è Vincenzo Caporale a seguire la trasmissione Controvento curata e condotta da Dorotea Mazzetta e Controvento di questa sera è dedicato alla riqualificazione del quartiere Gammarana di Teramo e poi domattina alle 7 come sempre l'appuntamento fisso in diretta con prima di tutto grazie buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.